Paragrafo 9 del sesto libro del De Repubblica. Ecco, incomincia così, proprio con il paragrafo 9, quella parte del De Repubblica che è chiamata anche, generalmente chiamata, Somnium Scipionis. In questo testo Cicerone, rifacendosi ad Aristotele, nel senso che è vero, è una specie di dialogo questo, ma è anche più un trattato, ci parla della sorte delle anime dopo la morte. Questa cosa verrà ripresa anche da Seneca, che scriverà Dialogi, da Boezzo, De Consolazione Filosofie, eccetera. Ma a noi adesso interessa quello che è successo a Scipione l'Emiliano. Iniziamo quindi a leggere e a tradurre questo brano. I primi due paragrafi del Somnium Scipionis hanno una funzione meramente introduttiva. Danno le coordinate spaziali e temporali del sogno raccontato ad alcuni amici da Scipione l'Emiliano, proprio poco prima della sua misteriosa e improvvisa morte. Allora, Scipione l'Emiliano, in qualità di tribuno militare, si era recato in Africa nel 149 a.C. a seguito di una spedizione volta alla conquista di Cartagine. L'impresa si rivelò subito più difficile del previsto, tanto che la tenace resistenza dei cartaginesi fece protrarre per tre anni la guerra, che si concluse nel 146. Quando Emiliano, diventato allora proconsole, praticamente capo della spedizione, sconfisse, occupò definitivamente, si può dire rase al suolo, la città di Cartagine nel 146. All'inizio della guerra, però, tre anni prima nel 149, si era sentito in dovere di andare a trovare il re della Numidia, Massinissa, ancora vivo, era stato vecchio amico, alleato del nonno adottivo Scipione l'Africano Maggiore, quando nel 202 aveva sconfitto i cartaginesi, appunto, grazie anche all'alleanza dei Numidi. Oramai Massinissa era prossimo alla morte. Naturalmente i due conversano soprattutto del nonno di Scipione l'Emiliano, nonno adottivo, l'Africano Maggiore, che il vecchio Massinissa aveva quasi la sensazione di rivedere nel giovane Emiliano. E l'Emiliano è talmente suggestionato da questi discorsi, che poi, una volta ritiratosi a dormire, sogna che il nonno stesso gli compaia davanti, lo inviti ad ascoltare attentamente quanto sta per dirgli. Cum in Africam venissem Marco Manilio Consuli ad Quartam Regionem Tribunus, uccitis militum, nilmi fuit potius, quamut Massinissa convenirem regem. Famiglia nostra, iustis de causis, amicissimus, amicissimum. Allora, cum in Africam venissem, quando giunsi in Africa, essendo giunto in Africa, cum narrativo, essendo giunto in Africa, cum più congiuntivo o più che perfetto, venio venis, veni vento un venire, in Africa, complemento di moto a luogo. Marco Manilio Consuli al servizio di Marco Manilio, dativo di relazione, per indicare l'ufficiale presso cui si presta servizio. Ecco, quindi, al servizio per il console Marco Manilio, tribuna, come? In qualità di tribuna, presso la Quarta Legione, ad Quartam Legionem, quindi ad Quartam Legionem, diciamo, di luogo, diciamo, di stato, luogo figurato, presso la Quarta Legione, in qualità di come tribuno dei soldati, come tribuno militare. Quindi tribunus è predicativo del soggetto, sottinteso io, io Scipione Remiliano. Il tribuno militare Scipione Remiliano si segnalò nella spedizione guidata dal console Marco Manilio contro i cartaginesi, tanto da diventare lui poi comandante in campo, proconsole, eccetera. Ut citis, così come sapete, frase comparativa. No, come voi e con il voi. Scipione Remiliano si riferisce agli appartenenti al circolo dei Scipioni, i suoi amici, insomma, Lelio e tutti gli altri, che stanno ad ascoltare il suo racconto. Come voi sapete, presentandomi agli ordini del corso del calo Maio Manilio alla Quarta Legione. Ecco, quindi, terminata la frase subordinata, abbiamo la principale. Nihil mi fuit pozius, quam, non chiedevo altro che, niente fu più gradito a me. Ecco, letteralmente, niente mi fu più gradito. Nihil, niente, è soggetto in nominativo neutro singolare. Niente fu più gradito, fuit, la copula, pozius. Pozius, nel senso proprio etimologico del comparativo di maggioranza. Niente fu più potente. È un nome del predicato, nominativo neutro, coordinato quindi con Nil, da pote, comparativo da pote. Niente fu più potente, letteralmente. Meglio tradurre in italiano niente fu più gradito, niente fu più piacevole per me. Quindi c'è questo mi, a me, di termine. Niente mi fu più gradito che, quam, niente fu più gradito che. E quindi questo quam introduce una comparativa. Quam, quamut, quamut, quindi insieme introducono la comparativa. Niente fu più gradito che incontrare, convenirem. Incontrare, massinissa, regem. Allora, convenirem è un congiuntivo imperfetto, da convenio, composto di venio, venis, venivento, un venire, che è il verbo di questa comparativa. Niente fu più gradito che incontrare, massinissa, regem. Regem, pertanto, è apposizione del complemento oggetto. Massinissa, complemento oggetto, è regem, è apposizione. In realtà, i rapporti fra Roma e la Numidia si erano parecchio raffreddati. Questa guerra contro Cartagine forse servì anche per scongiurare il pericolo di trovarsi presto di fronte una Numidia troppo potente e quindi per cercare di calmare un po' gli eventuali sogni di grandezza dei Numidi. In realtà, qualche anno dopo, poi con Giugurta, effettivamente, la si fece una guerra contro la Numidia. E quelli che erano stati alleati fino a quel momento, poi diventeranno, nel periodo di Mario e quindi di Giugurta, diventeranno dei nemici di Roma, come ben sappiamo. Non chiedevo altro. Traduzione un po' libera. Niente mi fu più gradito che incontrare massinissa. Regem amicissimum. Apposizione, più attributo, del complemento oggetto. Ora è molto amico della nostra famiglia, nostre famiglie. Justis de causis. Justis de causis per giusti motivi. Ecco, notate, insomma, a buona ragione, notate, insomma, che la preposizione è interposta, è frapposta, è messa in mezzo, c'è una specie di inversione, non so, iperbato. De più ablativo. Per giusti motivi. Infatti, questa è una specie di complemento di causa, ovviamente, no? Si presenta come complementi di origine, provenienza con e o ex de più ablativo. In realtà la causa è comunque l'origine di un fatto, di un'azione. Quindi, per giusti motivi, ovviamente, no? E per ben fondati motivi era molto amico della nostra famiglia. Come sappiamo, era legato ancora agli scipioni, perché era stato alleato, soprattutto, dell'africano maggiore. Infatti, il regno era stato usurpato da Siface, re di un'altra tribù numida. E allora Massinissa si era alleato con i romani, certamente per contrastare i cartaginesi, ma soprattutto per riprendersi il regno. Ed effettivamente ottenne questo. adquem, utveni, utveni, adquem, ovviamente, no? Cioè, adquem è un nesso relativo. Dobbiamo mettere prima la congiunzione ut. Ut più indicativo regge una temporale, qua, eh? Quindi abbiamo adquem, nesso del relativo, pronome relativo con funzione di raccordo, e ut che introduce la proposizione temporale. Non appena venni, no? Mi trovai al suo cospetto. Venni da lui, letteralmente. Non appena venni da lui, non appena giunsi da lui, non appena mi trovai al suo cospetto, complexus me senex con lacrimavit. Il vecchio, abbracciandomi, scoppiò in lacrime. Complexus. È un participio congiunto. Viene da complexor, complexteris, complexus sum, complexi. Verbo deponente della terza congiugazione. Participio, perfetto. Ovviamente, essendo un deponente, ha la forma passiva, ma il significato è attivo. Abbracciando, avendo abbracciato, abbracciandomi dopo avermi abbracciato, letteralmente sarebbe un passato, no? Ecco, abbiamo un con più un con. Il prefisso con è dentro complexus, ma anche dentro con lacrimavit. Questa anafora ha lo scopo di evidenziare il rapporto di paterna amicizia tra il vecchio massinissa, ormai quasi novantenne, e il giovane scipione lemiliano. Questo cum, diciamo, è un preverbio, poi diventa con, insieme con il verbo, che sottolinea proprio questo. Terminato il concerto per pianoforte di Muzio Clementi, ne abbiamo adesso uno per violino, pianoforte e orchestra, di Mendelssohn-Bartoldi. Bene, dicevamo, quindi, il vecchio abbracciandomi scoppiò in lacrime con lacrimavit. Quindi verbo intransitivo qua, eh? Infatti, non c'è complemento oggetto, ma a sinistra ha superato i 90 anni, eccetera. Aliquantòque post e, quel que è la congiunzione, e, dopo un po', dopo qualche attimo, e dopo un po', suspexit ad celum, et gratis inquit. Levò gli occhi, levò gli occhi, sottinteso gli occhi, gli occhi non ci sono, eh? Levò gli occhi al cielo, suspexit, levò lo sguardo al cielo, e disse, gratis, grazie, ringraziamenti. Allora, eh, aliquantòque post, locuzione avverbiale di tempo. E dopo un po', dopo qualche attimo, suspexit, suspendo, suspendis, suspexit, suspectum, suspendere. Alzò, levò, sollevò, gli occhi, sottinteso, dicevamo, ad celum, complemento di moto a luogo, sollevò lo sguardo verso il cielo, e disse, inquit, coordinato con, eh, non suspexit, gratis, grazie, termine arcaico, rimasto in formule sacrali, che corrisponde al grazias, sottinteso, grazias tibiago, no? Ti rendo grazie, eccetera, no? grazias tibiago, infatti, è l'espressione per ringraziare le divinità, quindi, addirittura, una espressione di grande rilievo, grande solennità, ecco, dice, ah, no, dopo gratis, dice poi, tibiago, summe solvo, bisque, relique cerites, quod, antequam, ex avvita migro, cospicio, in mio regno, in istectis, publium, cornelium, scipionem, cui usiego nomine, ipsore creor, ti rendo grazie, tibiago, gratis, quindi, io ti rendo grazie, gratis, pertanto, sarebbe, letteralmente, complemento oggetto di ago, ti rendo grazie, sono grato a te, sole, eccelso, sommo sole, et vobis, e a voi, rendo grazie a voi, restanti divinità celesti, eppure a voi, altri dei celesti, con celite, estermi e di uso poetico, si devono intendere, non tanto gli dei, quanto gli astri divinizzati, il culto del sole degli astri, era comune fra i popoli meridionali, e nord africani, per esempio, ce lo dice, Erodoto, anche Sallustion, Bellum Iugurtino, dice che, inumidi, dicevano di discendere dai persiani, e quindi provenire da quell'area, in cui erano molto frequenti, credenze di tipo astrale, sommo sole, e voi, altri dei celesti, vi ringrazio, perché, quod introduce una causale, antequam ex a vita, migro, prima di migrare da questa vita, prima di allontanarmi, prima di morire in sostanza, quindi, quod introduce una causale, antequam temporale, prima di morire, l'espressione che significa letteralmente, prima di andarmene, migrare, da questa vita, è tipicamente platonica, e sottolinea la fede nell'immortalità dell'anima, destinata al momento della morte, a migrare appunto dal corpo, come dicono spesso i cristiani, il trapasso, quindi un passaggio da una vita all'altra, migro, migro, ex a vita, presuppone il fatto che continuo a vivere, devo solamente trasferirmi da uno stato ad un altro, diciamo, da una condizione ad un'altra, ma continuo a vivere. Insomma, perché? Prima di allontanarmi, migrare da questa vita, vedo, nel mio regno, e sotto il mio tetto, conspicio, conspicio, conspicis, conspexi, conspectum, conspicere, io vedo, che è anche più intenso ovviamente, di vedere, conspicio vuol dire osservare, sotto inteso, quindi osservare con grande gioia, insomma. In mio regno, nel mio regno, nel momento di stato in luogo, et istectis, sotto il mio tetto, in istectis, altro complemento di stato in luogo, insomma, in questa reggia, sotto il mio tetto, vuol dire in questa reggia, vedo, conspicio, publium, cornelium, scipionem, complemento oggetto, cui ossego nomine, ipsore creoro, al cui nome, al cui solo nome, eh, io mi sento rinascere. Allora, cuius, letteralmente, il semplice nome del quale, mi, mi rallegra, è motivo di mio conforto, del quale, cuius, è pronome relativo, il nome, il nome del quale, insomma, Publio Cornelio Scipione, ecco, solo questo nome, mi fa venire in mente, evidentemente, Publio Cornelio Scipione, l'africano, il maggiore, insomma, la visita di Scipione, l'emiliano, fa venire in mente, a Massinissa, i tempi in cui ospitava, nella propria reggia, il suo nonno, Publio Cornelio Scipione, l'africano maggiore, l'antico prestigioso alleato, che Massinissa, non ha mai dimenticato, in realtà, come abbiamo sottolineato, questo era il nome adottivo, era il nonno adottivo, di Scipione, l'emiliano, che era stato adottato, dal figlio, maggiore, appunto, dell'africano, e aveva assunto questo nome, anche se suo padre, si chiamava in un altro modo, era Luce Milo Paolo, L'ambiguità della denominazione Publio Cornelio Scipione nel testo latino è funzionale, come osserva Fabio Stock, alla successiva affermazione, per cui il contenuto del sogno sarebbe stato determinato dalla conversazione della vigilia fra Scipione e Massinissa, non solo l'africano domina la conversazione, ma lo stesso Scipione viene accolto da Massinissa quale una controfigura dell'africano, al cui nome io recreo, mi sento rinascere, io sono ricreato, letteralmente, recreore, infatti, è un presente indicativo passivo del verbo recreo, recreas, recreavi, recreateum, recreare, eh? Da cui solo nome sono rianimato, abbiamo l'iperbato di ipso, ecco, infatti, ipso è in iperbato, è separato rispetto al termine a cui si riferisce, infatti, ego, nomine ipso, re, re, creator. E insomma, qui, in questo modo, anche attraverso questo ipso, quindi, calca la mano e sottolinea la commozione del vecchio re. itaque, nuncum ex animo meo discedit il lius optimi at que invictissimi viri memoria. Itaque, è così, a tal punto, tanto che la memoria, la memoria è soggetto, quindi, è il nominativo femminile singolare, non è mai svanita dal mio cuore, il ricordo, non è mai svanito dal mio cuore, il ricordo di quell'uomo eccezionale è davvero invincibile, tanto che non è mai svanito dal mio cuore, dal mio animo, il ricordo di quell'uomo eccezionale è davvero invincibile. così che è così, è così, non è mai nuncum dis scedit, mai si è allontanato, mai è venuto meno, il ricordo, memoria soggetto di quell'uomo il lius viri optimi at que invictissimi, due superlativi sempre attributi del compimento di specificazione, non si è mai allontanato dal mio cuore, dal mio animo, quindi discendo, discendis, discedi, discensu, discessum, scusate, discendere, è un verbo della terza coniugazione che qua evidentemente è al perfetto indicativo terza persona singolare, non si è mai allontanato dal mio animo, quindi tipicamente il compimento di allontanamento, separazione, e o ex più ablativo, il ricordo di quell'uomo eccezionale, ottimo, è invincibile, assolutamente invincibile, invictissimi, e così viene evidenziata dalle parole di Massinissa, insomma, la commozione nel ricordo del nonno, dei indego illum del suo regno mede nostra repubblica per contatus est, poi, in seguito, qui, io gli chiesi, per contatus est è un deponente, per contor, per contaris, per contatus sum, per contari, quindi io chiesi a lui, illum, io interrogai lui, non so, mettiamola così, infatti, in latino, la persona a cui si chiede, viene espressa in accusativo, del suo regno, complemento di argomento, gli chiesi del suo regno, de più ablativo, no? e lui, a sua volta, chiese a me, e quindi, questa volta, io sono, insomma, Scipione è, la persona a cui si chiede, anche questa volta con un altro accusativo, abbiamo, senz'altro, un parallelismo, una simmetria, ego illum del suo regno, mede nostra repubblica, simmetria perfetta, accorgimento, stilistico, che insieme con l'ellissi del verbo per contatus sum, sottinteso per contatus sum, nella prima frase, espresso solamente per contatus est, nella seconda, concorre a creare l'effetto di un rituale di cortesia, tipico di molti ambienti diplomatici e militari. E' da sottolineare anche l'antitesi tra i possessivi suo e nostra, suo regno e nostra repubblica. Infatti, comunque, il regime della Numidia è un regime di tipo monarchico e quindi è da contrapporre al nostro regime, che è quello della repubblica. Non dimentichiamoci mai che questo brano è tratto dal De Repubblica di Cicerone, dove viene esaltato questo tipo di governo. e qui viene esaltato se vogliamo anche in modo antitetico, contrapposto insomma a quello della Numidia. Multis verbis ultra citroque abitis sille nobis consumptus est dies. Così, tra le tante parole spese da parte mia, da parte sua, trascorse quella nostra giornata. Così, in questi modi, abitis multis verbis eccetera, è un ablativo assoluto. Avute molte parole, non so, chiaro che non è possibile tradurlo letteralmente. abitis infatti è un participio perfetto di abbe o abes, abitum, avere. Verbum, ma qui l'accezione proprio anche del greco logos di discorso. Tenuti molti discorsi, molte parole nel senso di molti discorsi. Ultro citroque, da parte mia, da parte sua, ille dies, soggetto più attributo, quel giorno consumptus est, si consumò, ci passò, si consumò, è un perfetto indicativo passivo del verbo consumis, consumptum, consumere, fu consumato da noi, letteralmente, per noi consumò, questo giorno, ille dies, consumò, notiamo ancora una volta il parallelismo, trascorse per noi quella giornata. Nobis è dativo etico, quindi è un dativo che non ha una sua funzione logica ben precisa, ma serve solo per indicare la partecipazione personale dei due, quindi la nostra partecipazione di Massinissa e di Scipione l'Emiliano a questa conversazione, passò tutta quanta la giornata senza che neanche ce ne accorgemmo, è passata tutta quanta l'ora senza che neanche ce ne siamo accorti, giusto? grazie a tutti.